Grazie Presidente, signor Ministro. Mezza Italia sta bruciando. Di fronte al dramma dei nostri beni ambientali inceneriti nelle ultime settimane, ci saremmo aspettati da lei un'assunzione di responsabilità, che come al solito non c'è stata. I dati che ha snocciolato e il profluvio di belle intenzioni nascondono solo il fallimento delle vostre politiche ambientali e di tutela del nostro patrimonio naturale. Fallimento voluto e perseguito da questo Governo, che procede in continuità con quello precedente, sostanzialmente ha servito alle logiche, mi passi, la definizione del business as usual, che piace tanto, piuttosto che alla reale economia, ovvero la norma della Casa Comune, proprio nei giorni in cui l'UNESCO annovera nel patrimonio mondiale le nostre secolari faggete. A cosa serviranno, Ministro, i 5 milioni che stanziate se non a generare ancora business, magari con la collaborazione della malavita? E le ricordo, Ministro, che la legge sugli ecoreati è stata fortemente voluta da questo Parlamento, non dal Governo. Negli ultimi 30 anni è andato distrutto il 12% del patrimonio forestale italiano, in 10 anni sono 500 mila gli ettari di bosco bruciati e tenga ben presente che un'altra emergenza è alle porte. Il prossimo autunno le aree desertificate dagli incendi saranno a rischio idrogeologico e presto raccoglieremo gli esiti della cronaca di un disastro annunciato. Questi sono i risultati di politiche scellerate e irresponsabili, dove avete tutti piena responsabilità. Signor Ministro, è a conoscenza della crisi climatica, vero, che sta tagnagliando il nostro pianeta. Ricorda il documento della COP21. Erano solo proclami, quelli che è andato a illustrare ieri negli Stati Uniti per fare l'ennesimo tweet, o un reale progetto da realizzare di concerto con le attività produttive. A idea dell'incommensurabile patrimonio naturale di cui è dotato il nostro Paese, è stato informato che ogni anno stabiliamo il record delle temperature massime. Lei fu il grande sostenitore del raggiungimento dell'1,5 gradi. Solo parole. Le hanno comunicato che i ghiacciai perenni continuano a sciogliersi. Ebbene, dove sono i provvedimenti strutturali che risolvono con urgenza queste gravissime problematiche mondiali? Ogni giorno qui si votano provvedimenti che continuano a peggiorare la situazione. E gli incendi dolosi sono solo l'ultimo chilometro di una catena di scelte politiche perfettamente in linea, come la scellerata riforma Madia, che ha soppresso e sciolto, militarizzando i dipendenti, il centenario competente e preparato corpo forestale dello Stato. Un errore storico del Governo. Ricorda quanta opposizione abbiamo fatto contro il vostro muro di gomma. Lo ricorda, Ministro, che prima della riforma Madia la direzione delle operazioni di spegnimento veniva garantita in convenzione con le Regioni, da personale specializzato del Corpo Forestale, che conosceva benissimo il territorio, intervenendo e coordinando tempestivamente, con una posizione dominante, tutte le forze che intervenivano sull'incendio. Dalla flotta aerea, alle squadre a terra, alla protezione civile, in un paio di giorni l'incendio era spento. Il Parco del Vesuvio sta bruciando da 13 giorni. Ora si pretende che tutto sia gestito dai Vigili del Fuoco, ma la maggior parte dei 7.000 forestali, esperti, mezzi, autobotti ed elicotteri sono destinati al servizio dei carabinieri, non certo alla difficile macchina che gestisce l'emergenza incendi. Dei 32 mezzi aerei della forestale, metà sono passati ai carabinieri, che li sta convertendo ad altre finalità, mentre degli altri 16 destinati ai Vigili del Fuoco, solo 6 sono utilizzati per spegnimento e 10 sono fermi perché devono essere adattati ai nuovi protocolli dei Vigili del Fuoco, corpo che nonostante le ultime assunzioni paga una carenza di organico di 3.500 unità. Sei regioni a cui è mandato il controllo boschivo sono prive di flotta aerea antincendio e alcune non hanno ancora il piano regionale antincendio. Le faccio presente che il Presidente della Campania non ha voluto sottoscrivere la Convenzione con i Vigili del Fuoco per l'emergenza del 2017 e solo il 13 luglio, quando si è trovato il fuoco a ridosso dei centri abitati, ha firmato l'accordo. Ministro, nulla si sa dei 48 milioni dei fondi europei destinati per l'acquisto di mezzi e strumenti antincendio. Nessun atto di programmazione. Le ricordo anche che solo un comune su 5 ha realizzato il catastro delle aree bruciate. E cosa dire in merito del costo orario per l'intervento dei Canadair gestiti da ditte private? Sono 14.000 euro l'ora. Sto per concludere, Presidente. Grazie. E' così che si fanno i tagli alla spesa pubblica, togliendo la competenza al pubblico e strapagando un servizio vitale. Avete tagliato le risorse da prevenzione prevista dalla legge 353. La pulizia è sotto bosco. Noi le denunce le abbiamo fatte con quotidiani atti parlamentari. Ma questo non ci lascia tranquilli, Ministro, perché fuori il fuoco sta divorando un immenso patrimonio. E le posso garantire che il puzzo di bruciato arriva fino qui. E non è certo quello dei boschi. Non ci stupiremo poi se le fiamme spente scopriamo innumerevoli discariche. Sì, certo, Presidente. Nelle aree protette. Quanti si stanno leccando i baffi in questo momento? Ministro, credo che lei e la Ministra Madia dovete solo, semplicemente, rassegnare le dimissioni. I cittadini ringrazieranno. La ringrazio il collega D'Agostino adesso. Grazie, Presidente. Ministro, onorevoli colleghi. L'Italia brucia come mai negli ultimi anni. Inoltre,